Nulla cambia, tutto rimane come prima. La paventata idea di allargare la zona di produzione e coltivazione dei vigneti dell'Amarone e Valpolicella resta per il momento lettera morta. Tutto è nato da un vizio di forma presente all'interno del comma 2 articolo 4 della disciplinare di produzione. Un refuso assicurano esistente nello statuto sin dal 1968. Questo era solo un refuso che era stato voluto nel 1968 per qualificare disciplinare dove tantissimi disciplinari a livello nazionale avevano questa specifica. Il tutto con buona pace delle più importanti famiglie produttrici dell'Amarone che aspramente si erano opposte a questo tipo di liberalizzazione per un'etichetta riconosciuta in tutto il mondo e con un mercato che solo all'estero fattura l'80% del totale delle esportazioni. Una polemica a questo punto che sembra essere smorzata sul nascere. Credo che questo sia stato un motivo per mettere in discussione all'interno della denominazione una serie di regole, una serie di concetti. Ma vi voglio ribadire come ho detto in conferenza stampa che questo sarà un compito del tavolo interprofessionale dove tutti gli attori e non solo una piccola parte di loro dovranno partecipare, dovranno dare il loro contributo per portare grande la denominazione in tutto il mondo come stiamo già facendo. Infatti l'85% dei nostri prodotti sono venduti per il mondo.